Il questore Pinucci Albertino Agnello ha salutato la provincia di Ragusa per andare a dirigere la questura di Caltanissetta. Nel tracciare un sintetico bilancio della sua permanenza in questa provincia, il questore ha voluto sottolineare che sono stati tre anni di intenso lavoro, teso a mantenere alti i livelli di sicurezza nel territorio. Periodo di permanenza resa ancora più gravoso dallo stato di emergenza nazionale, scaturito qualche mese dopo il suo arrivo a Ragusa da Cagliari a causa del fenomeno pandemico da Covid-19. Nonostante ciò, ha ricordato il questore, l'attività di prevenzione e contrasto dei reati non si è mai fermata, così come non si è mai abbassata l'attenzione di sicurezza dedicata alla tutela dei cittadini. Come di recente, anche in quel periodo, moltissime sono state le operazioni di polizia giudiziaria che hanno consentito di sgominare gruppi di soggetti dediti ai furti in abitazioni e presso attività economiche e agricole. Un freno costante è stato dato anche al fenomeno dello spaccio di sostanze soffacenti con il sequestro di ingenti quantitativi di droga. Le emergenze sono state affrontate anche in relazione al fenomeno dell'immigrazione clandestina che da anni interessa questa provincia con numerosi sbarchi. A tal proposito ha voluto ricordare l'apertura del centro di accoglienza Don Pietro di Contrada Cifari. Non sono mancati i ringraziamenti di rito al prefetto Giuseppe Ranieri e ai suoi collaboratori, al sindaco di Ragusa e a tutti i sindaci dei comuni blei, ai rappresentanti delle altre forze dell'ordine, al presidente del tribunale, al procuratore della Repubblica e a tutti i magistrati per non aver fatto mancare, pur nel rigore della propria funzione, un fondamentale appoggio alla polizia giudiziaria. Un deferente saluto ha indirizzato poi al vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, per la sua azione pastorale supportata da iniziative promosse o condivise con la questura e un sincero ringraziamento ai cittadini della provincia che l'hanno accolta con generosa benevolenza invitandoli a mantenere sempre alta la fiducia nella polizia di Stato e nelle altre istituzioni, convinta che la denuncia e la collaborazione ripaghino sempre. Il questore Agnello infine terminerà ufficialmente il suo incarico a Ragusa il prossimo 14 maggio, passando le redini della questura al suo successore, il dirigente superiore della Polizia di Stato, il dottor Vincenzo Trombatore, cui ha augurato ogni proficuo e sereno lavoro.